Ciao a tutte e tutti. Una cosa importante che vorrei comunicare con questo video è che è fondamentale non permettere mai a nessuno di farci del male. Quindi, se ci mancano di rispetto, dobbiamo imparare a stabilire dei limiti, a stabilire delle regole per proteggerci dalle aggressioni dirette e indirette. In fondo, mica siamo venuti al mondo per sopportare gli attacchi altrui, per quanto siano obbedati o diretti e espliciti. E, ancor meno, dobbiamo essere convinti che non ce li meritiamo. A meno che non facciamo uno sgarbo, non ci meritiamo di subire mancanza di rispetto, ovviamente. Per carità, noi non possiamo controllare il comportamento di tutte le persone che conosciamo e con cui veniamo a contatto. Ma possiamo imparare a stabilire dei limiti e delle regole per cui questi limiti e queste regole vanno applicate se questi limiti e queste regole vengono infrante, vengono trepassate. Non possiamo pensare che sia normale ricevere e subire una mancanza di rispetto come qualcosa che è implicita, magari è propria, dei rapporti di potere. Anche un nostro superiore sul lavoro, anche il nostro partner deve darci rispetto. Il rispetto è una cosa importante che noi dobbiamo dare per primi, ma dobbiamo poi, ovviamente, pretendere dagli altri. Per cui, la linea che separa la tolleranza con l'intolleranza è molto confusa, come se fosse stata tracciata a matita e l'avessimo così un po' cancellata col dito sfumandola. D'altra parte, ognuno di noi ha la capacità e l'obbligo di stabilire le proprie regole e i propri limiti. Quel che è certo è che molte volte non sappiamo se i limiti siano stati superati o meno in un rapporto. Quindi è fondamentale fare chiarezza su noi stessi, capire quali sono, secondo noi, i nostri limiti, le nostre regole che determinano il rispetto o la mancanza di rispetto. Quindi è fondamentale capire cosa siamo disposti a tollerare e cosa no. In una qualunque relazione, che sia di amicizia, di lavoro, col partner, con i familiari, qualunque rapporto, qualunque relazione, dobbiamo avere le idee chiare. Capire proprio, fare chiarezza su quali sono i nostri limiti, quali sono le nostre credenze, quelli che sono i nostri valori che ci permettono di capire se una persona le ha oltrepassa oppure no. Quando ci mancano poi di rispetto, il nostro corpo, che è saggio a livello istintivo, ci avvisa sempre. Dobbiamo quindi imparare ad ascoltare noi stessi, perché tendenzialmente non ci ascoltiamo, perché tante volte quando sentiamo questa mancanza di rispetto ci rigidiamo, ci infastidiamo, sentiamo disagio o ci sentiamo prevaricati o offesi da questa persona. Quello che deve purtroppo far capire agli altri è che tante volte gli altri non si accorgono magari di aver mancato di rispetto, perché sono abituati così, perché noi fino a quel momento gli abbiamo permesso di arrivare oppure di oltrepassare il limite. Ecco che noi dobbiamo imporci per fare in modo che le persone la smettano di oltrepassare quel limite, in fondo se continuano a farlo perché noi purtroppo glielo permettiamo. Ecco che ovviamente dobbiamo imparare proprio a stabilire questi limiti, queste regole. Se non li stabiliamo diamo il permesso all'altra persona di ferirci e sono tanti i modi in cui permettiamo agli altri di calpestarci, mandiamo segnali quasi invitando le altre persone a farlo. Facciamo un esempio, esempio pratico. Qualcuno ci fa sentire a disagio con un commento sgradevole su di noi e noi invece di farglielo notare in modo assertivo, in modo tranquillo, diretto, invece di fare questo stiamo zitti e riponiamo il raccord in un angolino della nostra memoria, del nostro corpo, stiamo male ma ci chiudiamo e trasformiamo questa offesa, questo veleno in mancanza di rispetto. Noi abbiamo subito una mancanza di rispetto ma non la esterniamo, non glielo facciamo capire. Quindi accettiamo questo comportamento e se lo accettiamo cosa facciamo? Mandiamo un chiaro messaggio all'altra persona che in futuro sarà autorizzata a fare la stessa identica cosa. Quindi se noi non stabiliamo queste regole, questi limiti, se stiamo zitti, se subiamo, è come se noi autorizzassimo in modo inconsapevole, perché vale un po' la legge del chi tace la consente, permettiamo così all'altra persona di rifare la stessa cosa in futuro perché tanto noi non abbiamo detto nulla. Abbiamo subito, siamo stati male ma siamo stati zitti, non abbiamo esternato quello che è stata la nostra impressione, la nostra sensazione, il nostro malessere. Potremmo invece chiederci allora, quello che è stato detto ci fa sentire bene o ci offende? Ci fa stare male? Stare zitti ci aiuta? Aiuta a creare un buon rapporto con quella persona? Ci aiuta a migliorare il rapporto o ci dà solo dei danni? Ci crea solo dei danni? Purtroppo molte volte noi sorridiamo, stendiamo il cosiddetto velo pietoso, col finto buonismo per essere onesti, per essere buoni, però è solo un finto buonismo. Non siamo più buoni, forse siamo un po' più stupidi perché permettiamo certe cose, quindi evitiamo di dire ma in fondo io voglio evitare discussioni, in fondo io sono buono, in fondo cerco di evitare il litigio. No, no, impariamo a farci rispettare, è fondamentale. Dobbiamo mettere in pratica le regole e non prendiamoci in giro, non diciamo che noi non reagiamo perché siamo buoni, non diciamo che noi non lo facciamo perché non vogliamo offendere l'altra persona quando lui per prima magari ci ha offeso. Incominciamo a rispondere, non in modo volgare, non in modo offensivo ovviamente, ma dobbiamo far capire che l'altra persona ci ha offeso. Dobbiamo sfidarci a essere assertivi, quindi a comunicare quello che è il nostro stato d'annio, quindi non è che dobbiamo rispondere dicendo sei stato uno stronzo o mi eri offeso. No, per carità potrebbe anche scappare, però la cosa migliore è in modo assertivo dire guarda che mi sono sentito offeso o mi sono sentito mortificato o mi sono sentito toccato oppure mi sono sentito ferito quando tu hai detto quella cosa lì. Quindi non accusiamo tanto l'altro ma gli facciamo capire che comunque quello che è stato detto è stato offensivo e poi lo ribadiamo dicendo pregherei o mi auguro, oppure mi auguro ancora meglio che tu in futuro evitirai di fare commenti o dire frasi del genere. Quindi importante al massimo assertività, noi non dobbiamo permettere di essere trattati male e non dobbiamo permettere alle persone di mancarci di rispetto. Ricordiamoci sempre, se lo fanno è perché noi glielo permettiamo. Quindi tutto parte da una nostra rivoluzione interiore. Bene, grazie per aver seguito anche in questo video, ci vediamo al prossimo. Ciao!